Ciao mio caro amico aspirante thread professionista e profittevole Io sono Almaiti, oggi è lunedì 26 agosto 2019 e lascio ti mostri i thread fantastici che ho fatto durante questa sessione Bene, il primo thread inizia dalla sessione overnight a 5 minuti prima dell'apertura quando ho visto plenamente nel footprint sia 5 e 30 minuti il presentaggio di una grossa resistenza dinamica qua Praticamente io entro alla rottura di questa zona di accumulazione qua accumulazione short con 10 contratti short perché? Perché stavamo aprendo dentro il range pituso di venerdì Bene, come entro il mio stop loss è sopra questa linea nera questa linea nera è il midpoint, punto di mezzo della sessione pituso di venerdì scorso il mio target, come vedi, è il 2 tick prima con 10 contratti di questa linea nera qua che è il POC di venerdì scorso poi metterò un target su questa linea strategiana che è il POC della sessione overnight Bene, siamo a 3 minuti dell'apertura questo è il market profile, come vedi i target il primo target è il POC della sessione overnight il secondo target più ambizioso è il POC della sessione di venerdì il mio stop loss era un tick o 2 sopra questa linea qua nera sottile che è il punto di mezzo della sessione pituso di venerdì bene, il mercato, come vedi, sta per aprire questo è il food per 30 minuti il mercato sta per aprire questa è la situazione dell'apertura venerdì abbiamo avuto una giornata a ribasso con due distribuzioni la distribuzione superiore e la distribuzione inferiore il POC si è spostato nella distribuzione inferiore come vedi qua e niente, i volumi erano fortemente a ribasso durante la sessione overnight Asia session è andata a ribasso e poi la London session è orientata dentro il range pituso in questo scenario io ho capito dove entrare short e infatti poi il mercato all'apertura questo è subito all'apertura il mercato va direttamente a prendere il primo target come vedi a questo punto dopo aver preso il primo target metto lo stop loss da qua break even più 1 o 2 tick poi il mercato purtroppo fa un rally e mi stop a entrare di stop profit ma non mi importa il primo tempo fittable chiude con 812 dollari il secondo tempo fittable è una continuazione del precedente però sia verso il POC della sessione di venerdì io entro su un Ross Hook short con 5 contratti perdenti short a rotto rivista candela rossa nel graffio a 1 minuto pitusa anche perché come vedi il mercato è andato a rialzo ha preso tutti gli ordini di vendita selling, rest, limit orders e sta andando a ribasso il mercato mi seguo il mio ordine il mio stop loss è sopra il massimo dell'apertura il mio target finale è un tick prima del minimo dell'apertura bene questo è il football in 5 minuti come vedi il mercato mi va subito in 1 minuto a target e questo Ross Hook short era giusto il secondo 3 profittevole mi porta a 1.365 dollari adesso c'è l'ultimo 3 profittevole che è ancora un Ross Hook short entro con 5 ordini pendenti short su questo Ross Hook short a 1 minuto sul graffio pitusa perché? perché come vedi nel football 5 minuti ci sono qui 3 grossi ognuno di vendita catastratica e la più grossa resistenza dinamica a quel momento è il mercato sfrutto i volumi fortemente a ribasso per entrare short nel mercato mi eseguo il mio stop loss strutturale è soprattutto sopra il massimo della sessione pitusa dell'apertura pitusa scusami il mio target per questo qui che scarpio short è un tick prima del minimo assoluto bene il mercato cosa fa? stampo qua e poi ho accumulato short intrappolo ai longhisti che questa volta per uscire alla loro posizione impegna devono vendere e quindi vanno a vendere sul bid bidando ed ecco che il mercato mi fa a prendere il mio ultimo target come vedi questo è il footman a 30 minuti il mio target finale seguendo il primo trade di questo video era questa in aniera tratteggiata dal POC della sessione pitusa di venerdì ebbene il mercato mi fa a target e poi il mercato addirittura come vedi va ancora più giù e va a crollare il totale della sessione poi i minuti di lavoro sono 1865 dollari caro mio se anche devo tradare come me o fare anche dannatamente meglio di me nel mercato dei fusili e delle azioni delle opzioni allora lo scrivo la tua storia adesso e chiedimi perché vuoi essere dentro la mia detossificazione per trade grazie alla mia detossificazione per trade ti aiuterò a tradare un potere divini facendo un modo che tu possa tradare nel flusso dei mercati finanziari regolamentati di azioni, opzioni e future in modo da essere un 3 profittevole e guadagna ogni giorno in ogni condizione di mercato in ogni situazione di mercato ciao mio caro amico io ti auguro grazie grossi su questi profitti nella tua prossima sessione di trading ciao Don Mighty ci vediamo domani al prossimo 3 profittevole grazie a tutti grazie a tutti